Nel video precedente abbiamo visto come per lavorare sui portali quali Upwork e Fiverr sia necessario avere la partita IVA. Sul portale di questo tipo, in cui vengono riciaccate figure professionali come fotografi, traduttori, designer e così via, per presentarsi come figure professionali in regola con il fisco sarà necessario essere inquadrati come lavoratori autonomi. Chiaramente, se siamo alle prime armi, la nostra attività è ancora in fase di startup ed abbiamo i requisiti, la scelta migliore sarà quella di aprire la partita IVA in regime forfettario. Affinché freelance sia in regola con il fisco, sarà necessario aprire la partita IVA presso l'agenzia delle entrate ed iscriversi alla gestione separata IMSS per versare i contributi. Non sarà infine necessario iscriversi in camera di commercio. Queste due pratiche sono completamente gratuite se espletate autonomamente. Sarà infatti possibile aprire il numero di partita IVA recandosi personalmente in agenzie delle entrate, compilando il modello AA9 e consegnandolo ad uno degli impiegati dello sportello. L'iscrizione ad IMSS di gestione separata potrà essere effettuata solamente online sul sito di IMSS stesso e non è molto semplice da fare. Nel caso di professionisti che sono soliti emettere fatture attraverso questo tipo di portali, è spesso necessario iscriversi al registro IMSS. Se la tua partita IVA infatti non è abilitata ad effettuare operazioni verso altri soggetti europei, rischieresti pesanti sanzioni. Chiaramente consigliamo di affidarsi ad un professionista del settore per espletare queste pratiche, al fine di evitare errori e sanzioni. Se vi affidate a partita IVA24 offriamo gratuitamente l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione separata a tutti i nostri nuovi clienti. Così facendo farete tutto online con il nostro supporto.